E' stata Katia Ricciarelli, protagonista di una masterclass aperta al pubblico presso la Fraternita dei Laici, in Piazza Grande ad Arezzo, nell'ambito della rassegna Le Stanze dell'Opera. Percorso di specializzazione operistica e di avvicinamento alla lirica portato avanti dalla Fondazione Guido d'Arezzo. Giovedì 28 marzo, presso la Sala della Musica, giovani allieve soprano hanno potuto ascoltare i consigli dell'artista di fama internazionale. Un posto che io amo, che adoro, sono già stata, soprattutto poi per aver incontrato delle giovani così brave, delle voci così belle, con grande desiderio di arrivare fino in fondo, che è la cosa fondamentale e siamo felici di premiare questi ragazzi e sicuramente avranno questi ragazzi una grande carriera, ne sono sicura. C'è poca lirica in Italia, secondo lei? Intanto l'abbiamo inventato noi, questo melodramma nel 600 e poi dopo 400 anni, chissà perché ci ha messo tanto tempo, è stato riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO, quindi potevano anche accorgersi prima di noi, tutto il mondo, tutto il mondo, se si va in qualsiasi teatro al mondo, tutte le sere ci sono sicuramente almeno due opere se non tre di italiani, compositori italiani i più conosciuti, insomma, quindi che dire, non vogliamo dimenticare questo, vogliamo che tutta l'Italia sostenga questo melodramma veramente e sostenga soprattutto i giovani. I giovani cantanti, chiaro che debbono avere almeno 18, 19, anche 20 anni, poi cominciano a cantare, insomma, si hanno la fortuna e la tenacia di studiare e di arrivare a fare una grande carriera e quindi debbono avere fisicamente, insomma, ecco, almeno questa età qua e cosa succede? Succede che debbono stare a casa a spese, insomma, della famiglia e tutto questo è un po' difficile a volte, quindi il problema è sempre, quasi sempre, insomma, quello del denaro, quindi noi dobbiamo aiutarlo perché non pesino sulla famiglia e possano studiare serenamente perché poi dai 23 in su, insomma, cominciano a fare la grande carriera se sono dotati. Alla conclusione della giornata sono state consegnate anche delle borse di studio al Soprano, 500 euro ciascuna, offerte dall'imprenditrice Cristina Squarcialupi. Io credo fortemente nel portare anche nelle scuole ai ragazzi più piccoli, portarli a scoprire quello che tutto il nostro mondo, tutta la nostra tradizione ci può offrire e il modo appunto è quello di accompagnarli anche a vedere queste manifestazioni, ad avvicinarli, in questo caso alla musica e al bel canto e a fargli conoscere le nostre tradizioni, come dicevi te, questa è la città di Guido Monaco, è la città dove è nata la musica. Presente alla giornata anche il consigliere regionale Veneri. Con questa iniziativa che ha preso il via per la prima volta diciamo che si celebra la nostra città della musica e soprattutto si dà la possibilità a dei giovani talenti di esprimersi ma soprattutto di imparare da un team di docenti di grande eccezione. Un luogo magico dove la cultura è da sempre di casa. La sala dove è avvenuta la lezione e le lezioni tenute da Katia Ricciarelli ha più di 500 anni, ha una sonorità straordinaria e si trova all'interno del palazzo di Fraternita. La Fraternita vuole essere un'istituzione che accoglie, che valorizza e che rende a retina un'iniziativa straordinaria, fare le stanze dell'opera. Grazie a tutti.